salve o popolo di steam oggi giungo a voi con uno bruttissimo 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 non so se già ne siete a conoscenza ma purtroppo Fox Eleid ha cambiato di nuovo i battenti il nostro caro vecchio amico nonché collega come cazzo si chiamava Lord Cress mi sembra ha cambiato ancora idea su il gioco adesso non è più Voxle addirittura ha cambiato nome si chiama Cuburro 2 niente io sono ammareggiatissimo da questo cioè io ero qua che stavo ciacciando tranquillamente fra i miei giochi ho appena riscattato Magrunner Dark Pulser che l'ha messo gratis su steam e poi mi vedo questo aggiornamento di Cuburro Cuburro che cazzo di gioco è? mi sono chiesto sono andato a vedere è Voxelaz è Voxelaz che poi qui c'è addirittura scritto penso che quell'uomo stia cercando di truffare tutti in una maniera più esplicita possibile perché qui c'è scritto nuovo sviluppatori per questo gioco noi recentemente abbiamo sviluppato il nostro primo gioco abbiamo rilasciato il nostro primo gioco su steam è dove se vai a vedere tutti i commenti tutti gli dicano ma che cazzo dov'è il mio Minecraft perché se voi non lo sapete Voxelaz all'inizio era un clone bruttissimo di Minecraft che poi tra l'altro anche io ai tempi l'avevo comprato per tipo novecentesimi quel clone che poi è diventato un camminatore di passeggiate medievali che poi a sua volta è diventato questa roba qui è vero Cress guarda guarda tutti che lo sanno lo conoscono lo sanno ha anche cambiato nome nel caso adesso non è più Lord Cress adesso come potete vedere 2127 games in nome dell'editore lo sviluppatore del gioco cioè proprio lui vuole cance vuole fare proprio cancella proprio via io non esisto più ogni volta rincomincia la sua nuova vita quest'uomo è un eroe ci sono alcuni che hanno comprato una coppia brutta di minecraft clone e alcuni hanno comprato questo io non so che cos'è qualche random nothing niente noi abbiamo a me ti riesce che l'ha rimpiazzato questo titolo si è rimpiazzato e dimenticato questo questo gliel'ho appena scritto io giorni to the light un altro classico immortale che ha fatto quell'uomo che purtroppo anche quello non esiste più vabbè ragazzi io purtroppo vabbè per dimostrarvi che questo ragazzi è voxel innanzitutto il gioco è uscito praticamente il 14 agosto oggi è il 26 qua c'è l'achievement che conferma che io nel 2016 che poi tra l'altro praticamente ho quattro anni fa perché 2 agosto 2016 lo specifichiamo mettiamo i puntini su lei come si suol dire ho sbloccato sto achievement minchia come passa il tempo proprio veloce vabbè io volevo farvi vedere oddio ci sono ancora le vecchie carte fammi vedere oddio ci sono ancora le vecchie carte di quando era un clone di minecraft non le ha cambiate queste oddio mio dubito che cuburro qualsiasi cosa sia sia un simile minecraft però chi lo sa chi lo sa vabbè io volevo farvi vedere anche qua ragazzi che ci sono le immagini di voxelize la mia recensione ha ottenuto tutti voti positivi mi fa piacere ci sono tutte immagini di voxelize poi c'è anche uno squiddy vediamo se c'è un'immagine di quando era minecraft forse questo oddio mi dissocio ecco questo no lo voglio solo ecco all'inizio ragazzi questo era voxelize mamma mia scusate vabbè evitiamo eventuali copyright strike oh beh niente io ragazzi innanzitutto vi dico già una cosa i file di voxelize li ho già salvati e messi da parte così anche adesso che quando farò l'aggiornamento non li perderò e potrò continuare a giocare a uno dei giochi più belli dell'universo al walking simulator che non porta da nessuna parte anzi guarda io per ricordo lo apro adesso sto utilizzando un portatile perciò portatile scrauso perciò indubbiamente andrò da culo fraps è cresciato ma è solo per rivivare in voi quel fantastico ricordo profilo il profilo quando ci ho giocato mi sono chiamato Alessandro con come va a cagare proviamo a ustare una partita a vedere magari se no però merda va a 8 fps minchia vabbè eh come lo chiamiamo qwerty il server qwerty basta local si 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 chi se ne prega start io lo so ragazzi che se io questo video lo sto facendo oddio quanto va male non sento neanche l'audio probabilmente devo metterlo a posto dando al mix pazienza comunque lasciamo perdere ah si chiunque naturalmente mi stia guardando adesso se mai dovesse pubblicare sto video sul mio fantomatico canale youtube da ben 22 iscritti di cui 23 sono probabilmente gente che conosco che sia iscritta perché gli ho detto di farlo l'abbiamo tutti conosciuto tramite iotovio almeno tutti tranne me perché io ce l'avevo gente è diventato popolare grazie a lui qua in italia perciò ringraziamolo abbiamo visto è inutile che sia a giocare qua come un correttino un gioco vuoto dove non si può fare nulla dove non c'è nessuno è arrivato il momento ragazzi che tutti noi purtroppo minima parte stavamo aspettando aggiornamento ben 77 mega quasi 78 e questi 78 purtroppo porteranno alla disfatta di uno dei giochi più cult di youtube italia ah ma aspetta però ha lasciato i file di voxelites cioè ha lasciato un'altra roba che poi è bellissimo vedere come il gioco si chiede e entra ancora nella nella cartella originale di voxelites e non di cuburro anzi facciamo faccio una cosa per bene lo disistallo perché non vorrei dei file in conflitto sai e dobbiamo giocarlo a naturale infatti adesso occupa 153 mega e non più solo 78 bisogna essere precisi ragazzi quando si fanno le cose io non sono bravo in questo però voglio cercare di esserlo mi ci impegno il mio lavoro 2127 games ok no file locali ah no adesso ha non si chiama più voxelites ha la sua cartella cuburro ok almeno questo allora se vado in voxelites non ci sarà più niente ha cancellato solo l'eseguibile poco altro mi ho già detto ragazzi guarda vi faccio vedere non vi preoccupate che mi sono salvato i file originali così potrò rivivere questo capovolo tutte le volte che voglio vabbè dai non perdiamoci in altre chiacchiere e giochiamo a vedere da questa immagine sembrerebbe vorrei dire platform più è un rompicapo 2d perciò spero che questo computer riesca a leggerlo tranquillamente non andare in internet ok fraps vediamo un po' oddio non so se ero pronto per questo oddio mio aspetta voglio solo assicurarmi che fraps è che fraps che obs stia registrando ma sembrerebbe di sì ok a posto madonna ma va da culo cioè dai è 2d ma è fatto apposta così spero play 2127 games loading oddio ma che cacchio è un gioco per l'atari ma davvero e io quali di questi pixel su ah ce n'è uno rosso ok punzecchiando va avanti perciò presuppongo che sia l'intenzione originale dello sviluppatore di ah devo raccogliere le palline non capisco se sto prendendo danno oppure mi sta dando dei punti ho perso aspetta allora mi sa che devo evitare lì le lucine viola un attimo che lo devo capire attimi ragazzi ma è una blind run questo non ho mai toccato prima questo gioco sono davvero inesperto in questo settore e che devo fare per prendere quelle palline no non capisco non capisco se è un problema del computer che lo fa girare piano o seppure è l'intenzione dello sviluppatore perché io davvero ho picchiettato il tasto ed è andato avanti di quello che avete visto adesso picchietto la w un attimo proprio mezzo secondo e la lascio non ha fatto un cazzo lo rifaccio adesso è andato ci sono lì in basso vedo che c'è 20 su 20 cubetti adesso c'è un 19 perciò io devo prendere i cubetti presuppongo evitandoli le palline viola che mi vengono lanciate però il nostro cioè noi ci muoviamo su sprazzi predefiniti mi sa che va avanti di tot non va più avanti di così aspetta eh adesso proverò a suicidarmi ok molto bene non posso perciò se vai contro il muretto nel caso ve lo stavate chiedendo non succede assolutamente nulla eh no cazzo pensavo di riuscire a prenderle di prenderle e scappare più velocemente possibile ma non ce l'ho fatta mi dispiace ultima partita poi penso che non lo so lo disinstallerò per sempre e anzi visto che sono quasi le tre andrò anche a dormire già che ci sono invece di fare un pirla dai evitati fai qualcosa sto andando completamente a caso no non ce l'ho fatta niente basta il mio scopo ragazzi su quello di che era quello di informarvi e di fare anche un promemoria per il me stesso del futuro di ricordarsi di quanto erano belli i giochi di una volta è stato compiuto ho realizzato questo video e niente vediamo la pagina del negozio voglio vedere a quanto lo vende io questo l'ho comprato a 9 centesimi c'è stato molto bene c'è stato un ribosso no volevo dire c'è stato anche un periodo in cui l'originale Voxelite te lo regalavano era proprio free to play poi l'hanno messo anche mi sembra 5 euro un furto però c'è stato anche un periodo in cui veniva a costare 1 euro 9 centesimi e niente e niente perché qua però c'è a 1 euro e 59 aspetta questo è cuburro 1 oddio hanno fatto anche un 1 a me lo vedete ti prego esiste anche un 1 aggiungi al liste di desideri oddio allora aspetta quando è che è uscito il 13 agosto perciò recentemente ah guarda qua ci sono delle immagini allora è proprio il mio computer che non legge mai però si può sparare no aspetta ma si può sparare ma io devo sparare alle palline ma porca puttana io gli andavo incontro pensavo che fosse un pacman io ma porca puttana l'ho giocato ti faccio una partita però prima prima di tutto io voglio vedere no ha solo una recensione ok no per un attimo ho tremato che fosse journey to the light un gioco che è sempre del nostro caro vecchio amico lord kress che adesso a quanto pare ha cambiato nome come residenza e probabilmente anche nazionalità con questo con 2127 games almeno ha avuto la decenza per l'uno per il primo di fare un gioco a se stante però è stato gentile ci ha dato il 2 gratis no c'è solo l'uno ok allora niente ci faccio riapro un attimo il volo questo perché voglio sparare chiedo un momento scusa ragazzi perché se il mio computer è una merda però giuro su dio che questo gioco è ottimizzato col culo se è davvero un 2D questo computer non riesce a leggere c'è pur sempre sopra seppur schifoso un intel graphics che voglio dire per un gioco 2D dovrebbe andare più che bene aspetta che devo cercare di capire i tasti se faccio così esce una pallina viola premendo frezza giù non vorrei che fosse lo sparo sì però è scomodissimo cioè io devo muovermi con WASD e allo stesso tempo premere freccina giù le frecce per sparare è una scomodità unica spara su ok perfetto prendila dai che cazzo io gli faccio il giro cioè lo proverò quando quando ci avrò il fisso a portata di mano e che devo assolutamente lo devo speedrunnare voglio essere number one di sto gioco al mondo proprio io ho una passione per i giochi di merda infatti non so se prima l'avete notato giusto per raccontarvi i cazzi miei ho riscaricato One Day for Chad per il semplice motivo che adesso gli hanno aggiunto gli achievement da poco e allora bisogna finirlo no e voglio dire che fai non ho finito ah no mi stanno sparando no 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 non sparare sei scemo stacca tua sparare aspetta ma mi mancano solo quattro palline io direi di andare a prendere queste qua ah no c'è sempre anche uno lì che spara anche lì aspetta ti posso fare così scusatemi ragazzi se non parlo costantemente ma ci provo faccio del mio meglio ma non sono un grande game player ah 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 Freddy scappa no no mi sto sparando alcune sparano altre no bastarde scipollotti madonna no cazzo c'ero vicino devo prenderle tutte e venti no no adesso parte la competitività che c'è in me ce la devo fare però prima un bel bicchierozzo di fanta aspettate un attimo ok sono pronto prendilo che cazzo li sto girando intorno non ci riesco madonna mia per fortuna che si muovono piano piano ma si muovono così posso prenderli almeno in quel modo aspettando un quarto d'ora ma almeno non devo stare lì mezz'ora a cinci schiare in giro no perché non spara sto premendo freccia giù non spara cazzo sta facendo guarda il tiro rosa di merda no come come l'ho preso come cazzo l'ho sparato oh di mio dio ok non capisco cazzo dai merda merda vai 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 passare no giù 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 e niente era una brutta mappa è spawnata male questa casualità non mi piace ultima giuro no 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 sparagli prendila ok vai giù ok presa anche questa ma non capisco se sparano tutte o se sparano solo alcune perché fa così talmente da culo a 8 fps che non mi fa capire nulla mi sto muovendo completamente a casa vai giù ok perfetto prendi anche questo se ci riesci non ce l'hai fatta pazienza allora prendiamo queste qua niente eh niente ragazzi io non so più cos'altro dirvi se ce l'hai fatta io mi invito molto più che calorosamente se avete comprato Voxerize ai tempi a riuscire a battere il mio record mondiale di 13.400 punti e niente queste sono esperienze che vanno raccontate nella vista di tutte le persone come fa a non capitarti una cosa di questo tipo cioè tu apris ti metti li trovi il tuo gioco ho completamente sputtanato hai comprato una cosa non c'è problema ah ok non è Voxerize non mi stavo preoccupando sembra più una texture pack del vero Minecraft altro che vabbè vabbè niente ringrazio tutti per la gentile visione e niente siete stati su Giovannacchi Clamoford niente il mio canale YouTube arrivederci alla prossima statemi bene non guardate questo video fino alla fine lasciate dislike ciao